Il più cordiale e buon venerdì da Maria Beatrice Crisci, le audio news di Onda Web TV, le notizie in positivo. Oggi 2 ottobre è la festa dei nonni, figure speciali e fondamentali nella vita dei piccoli ma anche dei genitori. La festa dei nonni celebrata oggi è una ricorrenza che in Italia esiste dal 2005. La festa del 2 ottobre non poteva essere però più appropriata. Questo è infatti il giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra i cosiddetti angeli custodi. Auguri dunque agli angeli che oggi festeggiano l'onomastico. Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana adoppa un nuovo consiglio di amministrazione. L'Assemblea dei Socii ha eletto i nuovi componenti del CDA che resteranno in carica per il prossimo triennio. Giovani e donne rappresentano la novità emersa dal voto. La maggioranza dei consiglieri è under 35. Si inaugura domani a Piedimonte Matese il Festival dell'Erranza giunto all'ottava edizione. Appuntamento alle 17.30 nel Chiostro Domenicano. Quest'anno il premio nazionale Festival dell'Erranza è dedicato alla transumanza, patrimonio dell'umanità. Primo ottobre dal Volturno all'Italia se ne parla domani 3 ottobre alle ore 10 appuntamento al Museo Campano di Capua. E Omnia Arte Caserta nella nuova sede di Corso Giannone 44 Palazzo Crespino. Il 24 e il 25 ottobre ospita lo stage di danza classica e contemporanea di Oliviero Bifulco, un vero e proprio prodigio della danza. La prenotazione è obbligatoria, affrettatevi. Ed è tutto da Maria Bettrice Crisci, un grande abbraccio e una raccomandazione.